Ok, siccome a te non piacciono le etichette, posso tranquillamente chiederti se io o te potremmo diventare un Ikikomori tra cinque anni. Lo escludo perché abbiamo superato forse la fase più complessa. Lo saremmo potuti diventare, questo sicuramente, sia io che te. No, no, io parlo proprio di diventare Ikikomori a 40 anni, è possibile? Allora, questo è un discorso interessante perché ci sono casi in Giappone di over 40 che diventano Ikikomori. Sono soprattutto legati, per esempio, alla perdita del lavoro. Se tu sei una persona già isolata, perché poi, di fianco di Ikikomori c'è tutto un tema di solitudine, di disgregazione dei rapporti sociali. Cioè, Giappone ha un sacco di problemi, per esempio, di morti solitarie. Persone che muoiono e vengono scoperte mesi dopo, perché non ci sono più parenti e amici che sanno che quella persona era lì. Quindi aumentano questo tipo di fenomeni legati alla solitudine, alla divisione delle persone. Giappone, ovviamente, ha numeri più alti perché ci sono tutta una serie di dinamiche legate alla pressione, alla cultura, che favoriscono questo fenomeno. Questo lo vedo difficile in Italia, però, dove comunque la presenza della famiglia allargata esiste in un modo o nell'altro. Certo, non è come negli anni 50, però esiste ancora. In parte, allora, la famiglia italiana in parte è un fattore protettivo, da questo punto di vista, e in parte credo sia un fattore peggiorativo. Perché in Italia, per esempio, si esce di casa molto tardi, anche per una questione familiare. Non solo, come dicono tutti, per una questione di non ho i soldi. Non è solo quello, è anche per un mood di rimanere più in famiglia. Questo è un fattore, ovviamente, peggiorativo per la propria indipendenza. Quindi, diciamo che anche in Italia ci sono dei fattori che possono essere peggiorativi. Però, in Giappone, come dire, il numero è impressionante. Lì, il fenomeno ha numeri che non esistono nel resto del mondo. Quindi, ci sono delle dinamiche molto particolari che lo favoriscono. Quindi, la domanda era? Si può diventare Likikomori a 40 anni? Ecco, lì, magari qualcuno perde il lavoro, è già tendenzialmente solitario, si isola anche per questa dinamica. Secondo me bisogna distinguere, però, perché un conto è l'isolamento traumatico e depressivo. Un conto è Likikomori. Secondo me, Likikomori deve avere queste due caratteristiche, almeno, dalla mia punto di vista. Il fatto che il tuo isolamento si è determinato dalla paura del giudizio, dalla paura di essere, in qualche modo, giudicato per i tuoi fallimenti, e da una visione negativa nei confronti della società. Quindi, dal fatto che tu ritieni la società un posto non accogliente in cui tu non ambisci a essere parte. Se ci sono questi due fattori motivazionali, che quindi non sono oggettivi, anche per questo non è facile da identificare Likikomori, perché non puoi dire, sei isolato da X mesi, allora sei Likikomori. Per me questo discorso non ha senso, perché allora cosa vuol dire? Uno che ti arriva e dice, io sono isolato da tre mesi, e ti dice, no, torna tra sei, che poi sei Likikomori. Che senso ha? Ma se devo trovare dei fattori, dei criteri, sono questi qua più motivazionali, che quindi possono essere capiti solo in un colloquio approfondito. Questi fattori, secondo me, determinano il fenomeno. Poi ci sono tutta una serie di fenomeni che vanno ad accostarsi Likikomori. la depressione, il fatto che magari appunto ci sia una solitudine maggiore, quindi, non so, un anziano che non ha più contatti perché non ha più familiari e tende a rimanere da solo. È un Likikomori. No, secondo me è semplicemente un tema più di solitudine, di sgregazione dei contatti sociali. Non è una persona che ha paura del giudizio, non esce perché ha paura che viene giudicato o perché vede la società come negativa. È semplicemente rimasto solo. Però, ad esempio, se io fossi un quarantenne, che ha appena perso il lavoro, oppure non l'ha appena perso, ma magari l'ha perso da 5-6 anni, faccio fatica a trovarlo. Vivo una situazione di non indipendenza economica perché a un certo punto non c'ho più neanche la disoccupazione, non c'ho più niente. Quindi arranco, diciamo. E questo arrancare inizia a farmi isolare, non vedo più gli amici perché magari vedo che gli amici hanno le loro vite, eccetera, io no. Bravo. Questo può essere una dinamica riconducibile Likikomori. Quindi si può in un certo senso. Certo che sì. Il problema, la differenza qual è? Che tu, in teoria, in quell'età dovresti essere più resiliente. Quindi è molto più difficile che tu sviluppi questo tipo di pensieri negativi dopo che hai fatto tante esperienze che ti hanno formato, ti hanno plasmato. Ma è possibile, assolutamente. Ci sono dei casi. La stragrande maggioranza inizia, invece, nella fase adolescenziale, che è la fase, appunto, per diverse dinamiche psicologiche, più predisposta a questo tipo di negatività, a questo tipo di visione, anche eccessivamente pessimistica, perché poi tutti sappiamo che la società è brutta, nel senso che ha tante cose negative. Però quando questa cosa diventa polarizzata, questo pensiero diventa talmente estremo che poi tutti i problemi, diciamo anche le patologie mentali, sono di fatto degli estremismi di comportamenti che potremmo definire normali. Iki Komori non fa differenza. Una persona tendenzialmente solitaria, che gli piace stare da sola, che non esce, che sta bene così, non è un Iki Komori, è una persona con quel tipo di predisposizione. Se questa predisposizione diventa estrema, quindi si polarizza, a causa di tutte le dinamiche che abbiamo detto, lì, secondo me, inizia a essere un problema riconducibile all'Iki Komori. Ma, lo dico, non voglio tirare una linea netta. A me non mi interessa tirare una linea netta. Non mi serve, da un punto di vista pratico. forse servirà dal punto di vista giuridico, burocratico. Ma a me, come persona, a me non mi interessa. Non mi interessa.